Il ritornare è stata veramente una sensazione bellissima, poi ritrovarci qua tutti quanti con una voglia pazzesca di far bene. La cosa più importante per noi, per me, per i nostri preparatori fisici è stata quella di non caricare troppi ragazzi perché leggendo i diversi infortuni che hanno subito le altre squadre, anche all'estero e tutto, mi sono raccomandato. Per cui siamo saliti gradatamente, ma devo dire che i ragazzi a casa hanno svolto veramente tutto il lavoro che avevamo programmato e sono stato molto contento di questo. Adesso stiamo aumentando, stiamo aumentando perché loro a casa hanno fatto tutto molto, ma secco, senza pallone. Per cui hanno forse fatto anche di più del lavoro a secco che facevamo insieme. Però adesso mettendoci il pallone, significa partitelle, pressing, tutte queste cose qua. E la corsa, ecco che andiamo a miscelare molto del nostro lavoro che eravamo abituati a fare prima. Per cui il proseguo sarà su questo, incrementare ancora di più il pressing, tutte queste situazioni che ci permetteranno di far bene poi in campionato. Certo che sarà una grossa incognita perché dopo due mesi i calciatori moderni non stanno mai due mesi fermi e faremo così, vediamo un po' quello che succederà. Come indicazioni mentali in queste due settimane ho detto appunto di non la prima cosa, era proprio sotto l'aspetto del contrasto. Non ho voluto contrasti proprio per evitare tutti gli scontri, ma non tanto per il Covid perché se ci fanno tutti questi test a settimana non era quello. Era proprio per cercare di farli rientrare nel clima partita piano piano. Adesso che sappiamo che il 20 ci sarà la prima partita e allora adesso cominceremo a pensare veramente al massimo sulla prima partita che sarà quella con l'Inter. Ripartire con tutte le squadre che devono recuperare la giornata persa credo che sia la cosa più giusta, ci rimettiamo tutti in paro. Per cui è giusto che la prima partita di campionato sia quella per quelle squadre come noi che non avevano giocato una partita. Le cinque sostituzioni sono già una gran cosa perché con il caldo partite ravvicinate perlomeno permettono a noi allenatori di non sfruttare così tanto i ragazzi perché poi ci saranno delle partite che alcune settimane appunto ci saranno tre partite a settimana e sarà uno stress notevole. Mettiamoci che è tanto che i ragazzi non giocano per cui lo stress sia quello fisico ma soprattutto anche quello psichico perché ricaricare subito le energie nervose per giocare la seguente partita non è una cosa facile. Però noi dobbiamo fare questo perché dobbiamo salvarci. È venuto il presidente, beh è sempre una cosa bella vedere il presidente che viene, fa vedere che ci tiene a noi per cui la sua visita ha rincuorato tutti i ragazzi. Il nostro stimolo deve essere sempre quello di stare sopra la soglia della salvezza perché non sappiamo poi ci sarà, si concluderà questo campionato? Non lo sappiamo, allora dobbiamo sempre stare sopra la soglia della salvezza per essere sempre al riparo da brutti scherzi. Grazie a tutti.